Torniamo a occuparci di discariche abusive sul territorio comunale di Favara e più precisamente di quella di Via dello Sport, la strada di collegamento tra la stadio comunale Giovanni Bruccoleri e Condrada Pioppo. Precisiamo che in quella zona il problema di scarica si protrae da diversi anni ma che si è ulteriormente aggravato negli ultimi mesi. Ci sono le immagini a testimoniarlo. Per chi proviene dalla strada statale 640, il biglietto da visita offerto dall'indecoroso spettacolo è a dir poco imbarazzante. Una lunga distesa di rifiuti di ogni genere e sacchi della spazzatura dimostrano, se ce ne fosse bisogno, quanto problematica si affavara la gestione della nettezza urbana. In assenza di controlli, tutti, semplici cittadini e commercianti, continuano imperterriti a conferire rifiuti in modo arbitrario, imbarba a tutte le regole dettate dall'ordinamento giuridico e dal buonsenso. Eppure, quando il favarese per varie ragioni si trasferisce altrove, si adegua e rispetta le regole, diventando un cittadino modello. Perché nella sua città questo non lo fa? A questo interrogativo se ne aggiunge anche un altro. Siamo sicuri che le istituzioni sono veramente interessate a evitare che la propria città si trasformi in una maxi di scarica a cielo aperto. In via dello sport fa impressione scorgere tra i rifiuti anche due carcasse di cani, probabilmente morti recentemente a causa di qualche sostanza tossica ingerita. Sappiamo tutti che dove c'è spazzatura ci sono insetti e ratti e che i rifiuti purtroppo diventano banchetto preferito da molti randaggi che percorrono in lungo e largo il territorio. A Favara abbiamo sentito parlare spesso di turismo e sviluppo. Che tipo di immagine di Favara porteranno gli amministratori all'esposizione internazionale di Milano che, neanche a farlo apposta, è incentrata sui temi del rispetto per l'ambiente e delle energie rinnovabili? Probabilmente vanteranno la città dei numeri registrati nella raccolta differenziata dei rifiuti. Ma, vedendo queste immagini, un dubbio ci sorge sulla tanto spanderata diminuzione dei rifiuti indifferenziati depositati in discarica.